Allora, quello che vorrei che facesse adesso è guardate 30 secondi la vostra musica davanti a voi fate mente locale di quello che abbiamo detto fino adesso quello a cui stare attenti, qua mi ha detto così, qua mi ha detto che sono stato un cane qua sono stato bravo, qua devo fare vibrato, qua devo stare attento perché devo far pianissimo perché è questo, perché è quell'altro e poi facciamo da capo in fondo Siamo Tiri 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 Grazie. 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 Grazie.